Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di Bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno cazzi andiamo subito a fare il giro vediamo oggi chi è il fortunato e vince David facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in un unissimo video ovviamente su Fortnite News un giorno dopo il grande aggiornamento innanzitutto voglio chiedervi come vi è sembrato vi è piaciuto finora l'aggiornamento ovviamente in collaborazione con Dragon Ball avete già preso il set? non l'avete preso? fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate tutto quello che volete qua sotto nei commenti prima di iniziare con tutte le news infatti oggi andremo a vedere innanzitutto il nuovo torneo dedicato a Fortnite in collaborazione sempre con Dragon Ball che contiene ragazzi dei cosmetici limitati gratis e poi ovviamente maggiori informazioni per l'aggiornamento che c'è stato ieri detto questo like mi raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanellina e direi che non perdiamo altro tempo andiamo a vedere subito la prima news partiamo quindi ragazzi con il nuovo Daily Bugle che adesso ragazzi si chiama in un altro modo ma è una specie di location dedicata ai pirati veramente bellissima che ricorda anche un po' tra le altre cose la mappa della stagione mi sembra 8 del capitolo 1 che aveva questa parte dedicata insomma ai pirati che c'era la nave c'erano i cannoni sono proprio anche tornati i cannoni in questa location c'è la nave insomma è tutto un po' a tema pirata e ricordo molto insomma quel periodo lì della stagione 8 del capitolo 1 che a me piaceva tantissimo quindi rivederlo è stato veramente molto molto bello fatemi sapere che voto date a questa nuova location poi ovviamente ragazzi abbiamo due nuovi bundle che sono in arrivo nello shop si tratta di un nuovo bundle di salva al mondo che è veramente molto molto carino e poi ragazzi come possiamo vedere invece alla destra abbiamo un altro pack che è uno scala livelli quindi un po' come l'Omega un po' come la skin del sogno versione ombra arriva questa nuova skin che ovviamente con l'acquisto in V-Bucks sarà non quindi in denaro reale potrete avere sia tutti i cosmetici ovviamente al set che però per sbloccarli bisogna completare le varie sfide che vi chiedono insomma di andare a cercare quella specie di simbolo dei scala livelli sparse per la mappa e poi una volta completati tutti ovviamente oltre ad ottenere mi sembra 25 livelli ottenete tutto e quanto il set che è esattamente questo che vedete alla mia destra niente di che devo dire che è un pochino il più brutto secondo me rispetto insomma ai ultimi usciti e inoltre ragazzi questo è diciamo tutte le sfide di questo nuovo pack quindi abbiamo ovviamente a copertura armi il piccone il backpack e poi la skin che avrà anche più varianti quindi queste insomma sono tutti in cariche del pacchetto inoltre ragazzi se volete completare la sfida che praticamente si chiama guarda Dragon Ball Super in Dragon Ball Super Episodio eccetera che praticamente richiede quindi il codice della mappa creativa è esattamente quello che vedete in basso 313793 eccetera se voi caricate questa mappa creativa e stati un minuto e mezzo completerete quella sfida che in tanti ho visto che non sanno come completarla perché non sapevano magari il codice lo trovate adesso in basso lì a destra poi ragazzi è stato finalmente decriptato il piccone di Wolverine che adesso ovviamente è solo nei file non si può ancora avere perché chiaramente il fumetto uscirà il 18 agosto se non erro quindi domani dovrebbe uscire in tutte le fumetterie lo potete anche prendere su Amazon che vi ho già lasciato il link nel mio canale di Telegram quindi se non siete ancora dentro mi raccomando entrateci e ovviamente questo sarà il piccone inoltre tra i tanti cambiamenti ovviamente anche di ieri c'è stata ovviamente l'aggiunta di un di tre anzi nuovi palazzi per pinnacoli pendenti non so se ci siete già andati ma ora se ci andate insomma abbiamo queste modifiche importanti alla città di pinnacoli pendenti che sono ovviamente i palazzi che abbiamo votato finora e concludiamo ragazzi il video con questa ultima novità infatti parliamo del nuovo torneo che sarà esattamente domani 18 agosto dedicato ovviamente a questa collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball come possiamo vedere infatti nella zona competi lo potete già trovare inizia esattamente domani e in questo torneo ragazzi mi raccomando fatelo perché potrete ottenere ben tre cosmetici gratuiti che sono uno spray e due standarti inoltre ci saranno un totale di dieci partite disponibili tre ore di durata ovviamente complessiva del torneo e la modalità ragazzi sarà a coppie quindi dovete trovare un vostro amico però mi raccomando fate questo torneo perché così potete ottenere insomma questi tre cosmetici che per la precisione dovete per lo spray ragazzi ottenere una posizione nel migliore 50% ok quindi migliore 50% nella classifica principale di questo torneo otterrete lo spray di sempre di Dragon Ball che adesso non abbiamo proprio un'immagine precisa 8 punti guadagnati otterrete l'icona standard di Dragon Ball e 3 punti onda energetica guadagnati icona standard del gioco vegeta infuriato quindi queste tre ricompense sono solo limitate le potete ottenere ragazzi solo tramite questo torneo che in arrivo quindi domani l'ora se non erro non c'è ancora scritta comunque verrà sicuramente messa qui da qualche parte entro aggiornati domani direi che per oggi comunque è tutto noi ci salutiamo e ci vediamo sicuramente domani con nuovissime novità che abbiamo ancora un sacco di novità ed eventi molto importanti vi avviso che ci saranno molte novità interessanti nei prossimi giorni quindi attivate mi raccomando la campanellina like e noi ci vediamo domani sempre qui alle ore 13 ciao